La Polizia di Stato ha scoperto un'azienda agricola nel territorio di Trani dedita alla coltivazione di piante di marijuana. Gli agenti della squadra mobile hanno individuato e sequestrato una piantagione di marijuana ed hanno arrestato il titolare dell'azienda, un andriese di 48 anni con precedenti di polizia specifici per coltivazione, produzione e detenzione di sostanza stupefacente finalizzata la commercializzazione. Dopo aver effettuato una perquisizione domiciliare, i poliziotti della squadra mobile e quelli del commissariato di Trani hanno rinvenuto all'interno di un box destinato ad officine nel piazzale dell'azienda, attrezzatura per il confezionamento della marijuana, un tritafoglie di fattura artigianale alto 50 cm con motore elettrico, un essiccatore, una bilancia da banco professionale, una macchina confezionatrice sottovuoto e d'aspirazione esterna, 46 buste in cellophane per il confezionamento sottovuoto e 20 grammi dello stupefacente. La perquisizione nel vicino terreno ha permesso di rinvenire 1.526 piante di marijuana in vegetazione con infiorescenza dell'altezza ricompresa tra i 60 cm e 2,5 m e del peso totale di 1.520 kg, tutte dotate di un sistema di irrigazione a goccia disposto per file e alimentato dal pozzo artesiano presente all'interno dell'azienda agricola. Il tutto è stato opportunamente posto sotto sequestro e l'arrestato dopo le formalità di rito è stato accompagnato nel carcere di Trani a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.